Resta ancora in silenzio Peter Polverini, il 24enne di San Giustino Umbro accusato dell'omicidio di Katia Dello Marino, la 41enne biturgenza ritrovata senza vita lo scorso 12 luglio in località Montagna. Il giovane che si trova detenuto nella casa circondariale Aretina di San Benedetto dallo scorso 16 settembre ha nuovamente incontrato i suoi legali Mario Cherubini e Piero Melani Graverini per fare il punto della situazione. Un incontro tecnico volta a valutare le strategie difensive anche se ancora come hanno ribadito i suoi legali molte valutazioni potrebbero essere premature. La difesa infatti prima di decidere la strategia difensiva resta in attesa che vengano presentati dalla procura di Arezzo gli ultimi documenti per valutare così il quadro nella sua completezza. Alla fine di questa settimana o al massimo all'inizio della prossima i legali torneranno in carcere dal loro assistito. Potrebbe essere proprio il prossimo incontro l'occasione per decidere la strategia difensiva e soprattutto se chiedere o meno il rito abbreviato. Il presunto assassino della 41enne ancora turbato dicono i suoi avvocati ancora sotto shock per l'intera vicenda che lo vede come protagonista. Attesi nel frattempo le risultanze sulle tracce matiche rinvenute sui sedigli anteriori dell'auto del padre di Peter utilizzata la notte dell'omicidio dal giovane sul martello ritenuto l'arma del delitto e su uno straccio intriso di sangue. La genetista Isabella Spinetti avrà 30 giorni a disposizione per riscontrare l'eventuale presenza di materiale biologico nei vari reperti. Grazie a tutti.